noi samurai siamo in minoranza ognuno dei nostri guerrieri deve valere quanto 10 avversari ogni oroce vale quanto 100 di loro rapidi potenti dei veri maestri con la katana la loro corazza è una perfetta unione tra flessibilità e resistenza sono i migliori guerrieri che il mondo abbia mai il mondo abbia mai